L'aspetto della motivazione è centrale e fondamentale. È anche per questo che dico che a mio parere la scelta dello strumento non è così importante. Allo stesso modo i bambini, come dicevo prima, cambiano spesso idea. Un giorno vogliono suonare violino, un giorno vogliono provare la chitarra, il violoncello, la batteria, il pianoforte. E molti genitori vorrebbero assecondarli facendo cambiare il loro strumento più o meno ogni anno. E poi molti genitori sono attratti loro stessi dal pianoforte perché si dice che sia uno strumento semplice, che sia uno strumento completo. In realtà, fidatevi di me, uno strumento vale l'altro perché lo strumento diventerà a breve un mezzo di espressione per il bambino. Un mezzo che lo aiuterà ad esprimere se stesso, le proprie emozioni, la propria personalità. Quello che conta, quindi, non è lo strumento, ma è il metodo di lavoro, l'approccio che per i bambini piccoli non può essere quello del metodo tradizionale, del solfeggio, della lettura delle note, della tecnica arida, senza scopo. Deve essere un metodo appassionante, accattivante, interessante, con degli obiettivi molto precisi e, in realtà, molto impegnativo, però piacevole. Quindi, quello che conta è il metodo di lavoro. Uno strumento vale l'altro. Tutti mi chiedono, ma perché tu insegni solo violino? Eh, perché io sono violinista. Io credo che per insegnare bene si debba conoscere la propria materia al livello più alto possibile. Io sono diplomata in violino e quindi insegno violino, ma so far appassionare i bambini al violino. Quindi, che sia il violino, che sia un altro strumento, ciò che conta è appunto il metodo di lavoro.